16 comuni del SAC che ha come capofila Comune Poggiardo stanno organizzando delle reti per il trasporto dei turisti, quindi mobilità lenta anche tra i comuni e soprattutto l'innovazione è quella di gestire i beni culturali in maniera integrata tra noi favorendo le reghe e soprattutto tutta una serie di operatori privati che potranno dare il contributo che noi riteniamo determinante al successo di questa scommessa, quindi gestire in forma associata i beni ambientali e culturali. Penso che sia per il territorio un passo avanti e su questo stiamo riscontrando grande attenzione anche da tutto il panorama da tutti coloro che operano e che sono interessati ad un territorio che rappresenterà sicuramente un'attrattiva maggiore per il futuro.